di vista che quella di domani sera sarà una finale storica da un certo punto di vista sia per quanto riguarda i termini sportivi perché insomma tutti sappiamo che la stazione bellissima che ha fatto l'Atalanta con Gasperini che potrebbe vincere il suo primo trofeo dall'altro lato c'è la Juventus con Massimiliano Alejo che potrebbe piacere anche il re di Coppa Italia di conseguenza insomma per il distorsio sportivo davvero c'è tantissimo ma al di là dello sport questa manifestazione è bella anche per tutto quello che si crea al di là dei 90 minuti di gioco che ovviamente ci auguriamo possano essere i più spettacolari possibili saranno due giorni molto ricchi, molto intensi di attività quindi lo dico anche per le leggi e preparatemi perché insomma non mancheranno gli aggiustamenti in termini di sport, in termini di solidarietà in termini di sostenibilità con un po' di novità che regala questa finale della Coppa Italia per Cia Rossa perché comunque per la prima volta in una partita di calcio il tema della sostenibilità sarà un tema molto molto importante